Si rafforza ulteriormente la rete di sicurezza intorno al pronto soccorso di Sondrio. Gli episodi di violenza, avvenuti di recente in maniera ravvicinata, due negli ultimi due mesi, hanno incalzato l'assunzione di provvedimenti per mettere per quanto possibile al sicuro operatori così come utenti del servizio. Già con il precedente episodio e anche con le indicazioni regionali era stata prontata tutta una serie di attività, per cui questo episodio non farà altro che accelerare questi eventi. In particolare verrà messa una guardia giurata in pronto soccorso, almeno come deterrente a questi fatti. È stato installato in sistema di videocamere, le telecamere sono attive, non è completamente attivo il monitoraggio che viene fatto dalle forze dell'ordine. Verrà installato a brevissimo un pulsante di chiamata rapida d'allarme e l'altra cosa molto importante che viene fatta è quella di ripristinare gli accessi del pronto soccorso e di rendere più sterile possibile il pronto soccorso, nel senso che l'attuale accesso del pronto soccorso, che è dalla rampa dell'ingresso delle ambulanze dettato dall'emergenza Covid, verrà ripristinato nel precedente accesso, cioè quello dal piano stradale, mentre soltanto la rampa verrà utilizzata per i mezzi su gomma, ambulanze o mezzi privati. Il pronto soccorso di notte verrà chiuso e quindi ci sarà l'accesso soltanto a chiamata, quindi dovrà essere suonato un campanello e verificato il chiamante, come in tutti gli altri pronti soccorsi, e anche l'accesso ai locali del pronto soccorso vero e proprio sarà controllato con dei meccanismi di porte remotizzate. Se quando è necessario il passaggio all'interno del pronto soccorso, verrà aperta la porta per permetterlo da parte dei pazienti. Poi tutto il resto rimane invariato, evidentemente il lavoro è quello di aiutare le persone nel pronto soccorso e gestire le varie problematiche delle persone, però un evento come questo ha creato un disservizio nel nostro ambito importantissimo che poi è seguito anche, ripeto, da quello che è la componente emotiva che persisterà per diverso tempo e che sarà difficile poi far superare gli operatori. Grazie. 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 Grazie.